ciao amici e amici oggi faccio la night routine allora cominciamo a preparare da mangiare la cena il ventolino voglio fare l'hamburger io faccio l'hamburger mi faccio un hamburger per me uno per esempio però un po' differenti cioè io lo faccio questo è mario che fischia io me lo faccio bollito perché se lo faccio fritto non riesco a dirlo me lo faccio bollito mi piace a bruno io lo faccio fritto ecco mi serve la pentola me lo fai bollito? no non faccio bollito faccio per me bollito perché lo faccio alla cocca poi dobbiamo fare anche l'insalata quella già lavata ok ok è di sì vanno vanno Sto facendo salata, ci serve la salata. E' un po' di saporina. Io generalmente la condisco adesso, sennò diventa una cosa cotta praticamente, una verdura cotta. Adesso faccio il letto. Ma perché non lo fai alla mattina? Perché Michele viene a dormire al comitino. Perché non lo fai all'attività, ma ora è al lavoro. E' un po' di saporina. 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 Vediamo se è morbido. Se mi butto? No, mi butto anche. Allora, io adesso mi metto a stirare. Mi metto a stirare. E' un po' di saporina. E' un po' di saporina. E' un po' di saporina. Si ricorda quello lì del 2018 vecchio? No, non è certo Lo vedo dopo la tua pandemia 2021 ma è vecchio No, 2020 Adesso queste qua io non le spiro ma le spiego Vediamo se è caldo No, non è caldo E ci vediamo dopo Allora Qui ce l'abbiamo da mangiare adesso Adesso metto i miei piatti in mangiare Vediamo avanti che cosa ci fa da mangiare Vediamo Che passa Davanti a me Eh ma lei è perfettina Ok Ci vediamo dopo Mangiato Ciao ragazzi adesso Adesso Dobbiamo Lavare i piatti Ci vediamo dopo Ciao amici Adesso Dobbiamo Lavare il pavimento Perché io tutta la sera lavo il pavimento Se no Non vado a letto Tranquilla Io ho la cucina sporca Non riesco a farmi vedere Adesso sto spazzando Sto spazzando la Ho guardato la La lavo lì Per tutto questo momento Perché la lavo lì Vabbè Mi sento più spazio per te Scopo per te Scopare per te Adesso lavo il pavimento Siccome non ho Il mocio No Non ho il detersivo Per il pavimento Non ho il detersivo Per i pavimenti Allora metti Un po' di goccino Di ammorbidente Non va bene Non consigliato No no La no mi vuole andare La no mi vuole andare a letto Ti sto aspettando No 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 Adesso devo portarla giù A fare la pipì E ci portiamo con noi E ci portiamo con noi Ma se è buio pezzo Mi portiamo con noi Ma se è buio C'è il flash C'è il flash C'è il flash C'è il flash No no Sto inquadrando Cosa ho fatto la fotocamera? E' giusto svolgata Ok Ho finito Ciao ciao Ah ecco Ciao Posso parlare? Ciao ragazzi Adesso mi metto qui Seduta sul divano A guardare la televisione Ecco il caminetto Che bello che è Ecco qua Stai iniziando un break off A prossima No no Arriva il Bruno Dove sei? Ciao Bruno Arrivando Bruno E' la copri che io stavo facendo vedere Ecco Sulla con Bruno Ok adesso vediamo Ok adesso vediamo back off E poi Ci rivediamo Facciamo Sì Questa è la seconda parte Del video Del video Allora ragazzi Io sono già in pigiama E pronta Per struccarmi Sì Adesso fai tutti Una panoramica La mia cucciosità La mia cucciosità Una mia cucciosità Le bollette Partano Impicchiate La cucciosità Pagottia Sì Vedete ragazzi Allora io mi strucco generalmente Con l'acqua a miscellare Di Delle medie Però volevo prendermi Con l'acqua a miscellare Anderla Darmieri Bruno Sono io qua Cosa c'entra tu E quella fai lì Ma non sei toccata Sono toccata Poco ma sono toccata Anche tutti Scassigli Però Piano piano Mi ricontro Poco ma sono a miscellare Poco ma sono a miscellare Scusate che c'è il terremoto, che è il tremolo, che è il tremolo. Sì, niente tremolo, vai. Ok, rimetto il piercing, rimetto due piedi, da lontano di una cippa, tolgo le tasche, metto qui. E abbiamo finito di struccarci. Sì, ho finito di struccarmi e adesso andiamo di là a preparare l'artisana. Svegliamo la luce perché qua sennò l'energia elettrica, la bolletta si fuori. Io ho preparato l'acqua nella pentolina. Ma cosa ti bevi la tisana? La tisana è quella rilassante. Sennò che l'acqua bolle per la tisana, io preparo le cose per domani. Siccome fa un caldo pazzesco, domani metterò tutto. No, metto sui jeans che vi ho già già, basta capire, inquadra questi, non me, allora basta capire cosa devo, eh, cosa devo, allora metto questo e poi finito la cipolla. Che domani andiamo, che domani, che domani andiamo alla PAM? Sì, andiamo alla PAM. Però no, registriamo. Adesso sono le cose che metto domani. I jeans sono di là, metto qui, mettiamo qua sopra, dentro del naso, torniamo qua, facciamo un altro bolletto, non voglio ancora. Allora, la mia giornata è finita e vado a nanna. La mia nanna è avutina. La mia nanna è finita, la mia giornata. Perché è sempre tutto in inglese, porca, tipo la bestia. Eh? Ma è sempre tutto in inglese. Tutti i piedi, tutti i piedi, tutti i piedi, tutti i piedi, tutti i calzani, mamma mia. Ok. Allora. Oh. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like. Attivate la campanella. C'è le notifiche. Il nome è sotto. E se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale. E buonanotte. E buonanotte domani!